L'ex presidente dell'Ars Gianfranco Micciche, deputato regionale di Forza Italia, ha indagato dai PM di Palermo per peculato, truffa e false attestazioni. A Palermo il sindacato autonomo della Polizia di Stato ha ricordato le vittime di mafia in forza alla questura di Palermo. In occasione del quarto centenario del ritrovamento alle spoglie di Santa Rosalia, un convegno sulle edicole votive della Madonna della Milice a Palermo. Studenti e bambini, protagonisti al CUS di Palermo da giugno ad agosto per i campus multisportivi. Semifinale promozione, il Palermo questa sera a Renzo Barbera affronta il Venezia nella gara d'andata. Ben ritrovati alla prima edizione del TG di Media News di lunedì 20 maggio. L'ex presidente dell'Ars Gianfranco Micciche, deputato regionale di Forza Italia, è indagato dai PM di Palermo per peculato, truffa e false attestazioni. Al politico è stata notificata oggi la misura cautelare del divieto di dimora a Cefalù. Il parlamentare avrebbe usato per fini personali l'auto che era stata assegnata per svolgere le funzioni istituzionali. Amici che inoltre i magistrati contestano di aver confermato le false missioni di servizio dichiarate da Maurizio Messina, dipendente Ars, che gli faceva da autista. Una truffa che avrebbe portato nelle tasche di Messina indennità non dovute per 10.736 euro. Un provvedimento del divieto di dimora è stato notificato anche a Messina. Per lui il divieto riguarda i comuni di Palermo e di Monreale. E cambiamo argomento. Stamane a Piazza Ruggero VII a Palermo, il sindacato autonomo della Polizia di Stato ha ricordato le vittime di mafia in forza alla questura. A pochi giorni dalla strage di Capaci, in piazza, la teca con ciò che resta della Quarto Savona 15, una delle auto di scorta dinaniata dalla deflagrazione dell'esplosivo usato per uccidere il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della Polizia di Stato Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro. Vediamo. Nessun uomo ha il diritto di togliere la vita a un altro essere umano. Con queste parole una piccola alunna dell'Istituto Nicolò Turisti di Palermo ha aperto la giornata della memoria il ricordo delle vittime della Polizia di Stato in forza alla questura di Palermo. Una celebrazione organizzata dal sindacato autonomo della Polizia a pochi giorni dal 32esimo anniversario della strage di Capaci. Incontriamo gli studenti, le giovani generazioni per far conoscere gli uomini e le donne che hanno sacrificato la vita per rendere il nostro paese un paese più vivibile, per cercare di liberarlo dal cancro della mafia. Il SAP ogni anno nel mese di maggio su tutto il territorio nazionale organizza una giornata della memoria. Noi quest'anno su Palermo abbiamo pensato di fare questa giornata in questa piazza, una piazza centrale, una piazza importante per i parapermitani ed esporre per la prima volta in questa piazza la teca della Quarto Savona 15. Come ben sapete questa teca contiene l'auto di scorta del giudice Falcone. Un'auto che per anni era stata abbandonata in un magazzino e poi per fortuna abbiamo pensato bene di poterla esporre e far sì che la coscienza degli italiani e dei palermitani in primis mantenga sempre un ricordo vivo. Gli cartelloni che vedete qui mostra ai bambini che sono qui in rappresentanza della scuola sono soltanto una piccola parte di tutto ciò che si verifica tra le pareti scolastiche e che questa organizzazione oggi ci ha dato il privilegio di portare in piazza e mostrare alla cittadinanza tutta. Simbolo della giornata ciò che resta della Quarto Savona 15, una delle auto di scorta diraniata dalla deflagrazione dell'esplosivo usato nella strage di Capaci dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro. La vettura da allora ha continuato il suo percorso nel nome della legalità e la teca con i resti e la macchina è stata esposta in tutta Italia a dimostrazione che la lotta a Cosa Nostra continua sempre e comunque. Non ci siamo mai fermati, abbiamo dimostrato che comunque quel giorno non li hanno fermati. continuiamo ad andare avanti e i chilometri continuano a girare nella Quarto Savona 15. Cos'è cambiato in questi anni? Ma guarda, forse sono cambiati i nostri giovani, i nostri bambini. Bisogna lavorare molto anche sugli adulti perché sono rimasti quelli degli anni 80, degli anni 90 e quindi la pensano ancora in un certo modo. dovrebbero essere proprio loro, visto che hanno vissuto quegli anni a trasmettere un cambiamento ai propri figli, ai propri nipoti. Si sono svolti questa mattina a Palermo i funerali di Samuele Fuschi morto lo scorso giovedì in un tragico incidente lungo la circonvalazione a causa di una buca sull'asfalto. Le seque nella chiesa di San Francesco Severio, nel cuore di Ballarò, quartiere nel quale l'uomo era originario. L'intero quartiere si è unito al dolore della famiglia, alla disperazione degli amici. Siamo a pezzi, rabbia sui social, ma come si fa a morire in questa maniera? E passiamo alla politica. Elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno. Si vota per il rinnovo al Consiglio Comunale anche a Bagheria. I candidati al Consiglio Comunale sono suddivisi in 13 liste per 295 componenti. I candidati a sindaco sono quattro, Filippo Tripoli, Tommaso Gargano, Pina Provino e Rosario Giammanco. Il sindaco uscente Tripoli si ricandida sostenuto da sette liste. Ascoltiamolo. Ci ripresentiamo agli elettori dopo cinque anni di amministrazione ed è chiaro che verremo giudicati su ciò che abbiamo fatto o non abbiamo fatto in questi cinque anni. Lo ritengo un dovere ripresentarsi agli elettori. Ci ripresentiamo nuovamente con una coalizione civica, così come è stato nel 2019, e con la faccia che abbiamo sempre avuto, quella di cinque anni fa. Questa è la prima volta di una campagna elettorale per le comunali a Bagheria dove non si utilizza in campagna elettorale il problema dei rifiuti, il problema della pubblica illuminazione, il problema del servizio idrico. Ormai questi servizi, che sono dei diritti, sono garantiti quotidianamente. E quindi c'è la possibilità di fare una campagna elettorale su quella che vuole essere la visione della città. Noi è chiaro che rispetto agli altri candidati ci presentiamo anche con le cose fatte o non fatte. Noi siamo una coalizione, come abbiamo sempre detto, civica, con molti limiti, ma sicuramente con tanta concretezza. Stiamo completando le reti giornali dopo 12 anni che erano ferme e bloccate. Dopodiché finalmente il Consiglio Comunale ha approvato il piano di utilizzo del demanio marittimo e quindi dopo i pareri della Regione verrà pubblicato l'avviso pubblico per la gestione delle spiagge e per realizzare dei lidi privati con delle aree pubbliche. E poi c'è tutto un tema collegato alla riqualificazione delle aree che stiamo portando avanti e che piano piano si stanno completando all'interno del cronoprogramma. Le cose da fare è il completamento delle cose avviate, ma con una proiezione verso il futuro. Noi principalmente gli assi su cui è puntato il programma 2024 è lo sviluppo del territorio attraverso le artigianali, il piano di utilizzo del demanio marittimo, il piano urbano generale, la riqualificazione dei beni confiscati e un'attenzione particolare al turismo e ai beni monumentali. Non sfugge a nessuno in questi giorni, basta girare la città che già c'è un numero di turisti insomma sensibile che in passato non si era mai registrato. Questo è uno degli obiettivi che abbiamo raggiunto. E continuiamo con la politica. Altro candidato alla carica di primo cittadino a Bagheria è Tommaso Gargano, sostenuto da quattro liste, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento Siciliano, D'Azione e L'Aquilone. Io mi candido a sindaco ma non per dire togliti tu che mi ci metto io, assolutamente no. Io sono il riferimento di una coalizione, il riferimento di partiti nazionali, il riferimento di una civica, il riferimento di un movimento sicilianista e c'è una squadra fatta di competenze e di professionalità. Quindi sarà un gioco di squadra a centrare l'obiettivo. I punti sono diversi. Io assieme agli assessori ho allestito un cartello elettorale, un programma che guarda diversi punti programmatici di questa città. Quindi oltre all'ordinario che va affrontato in maniera urgentissima, abbiamo scritto cose che alla città mancano da parecchi anni. Per esempio in questi ultimi cinque anni un'infrastruttura degna di questa città non è sorta. Ecco, puntiamo e crediamo che Bagheria nei prossimi anni dovesse essere proiettata sicuramente a una gestione migliore. Negli ultimi cinque anni c'è stata una forma maniacale della gestione del potere. hanno tecnicamente lottizzato diversi enti della città di Bagheria, dalla Caritas all'associazionismo alla protezione civile. Tutto quello che c'era da lottizzare lo hanno lottizzato. Bisogna liberare la città perché questi sono beni di tutta la città. Essere civici è facile perché insomma la sorta di Macedonia dove dentro c'è un po' di tutto e non si capisce all'ultimo cosa vogliono esprimere. Pezzi del centro-destra sono dall'altro lato, voglio dire, mi sembra che sia chiaro. Gente che ha lavorato sino a qualche mese fa per costruire il centro-destra è dall'altro lato. Noi invece ci abbiamo messo la faccia. Ho messo i simboli di partito nazionale, quindi l'immagine che diamo è quello che vogliamo dire alla città. A parte la speranza è un messaggio chiaro e non ci nascondiamo dentro queste macedone civiche. Voltiamo pagina. In occasione del quarto centenario del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, la sezione beni culturali di Altavilla Milica e la confraternita Maria Santissima Lauretana della Basilica Santuario Madonna della Milica hanno organizzato alla Rettoria di San Francesco Saverio, all'albergheria, un convegno delle edicole votive della Madonna della Milica a Palermo. Il tema della giornata odierna è quello delle edicole votive della Madonna della Milica presenti nel centro storico di Palermo. Queste edicole votive rappresentano delle opere di grande valore etno-antropologico che sicuramente vanno preservate, sono segni che hanno accompagnato la nostra storia e quindi in quanto tali sono portatori di valori che vanno conservati e tramandati alle future generazioni. Per cui ci auguriamo che possano essere oggetto anche di restauro. È una giornata bella perché sancisce quell'unione che è un'unione secolare tra Palermo e Altavilla Milica. Siamo qui a rappresentare l'amministrazione comunale ma a rappresentare come la devozione mariana alla Madonna della Milica è una devozione che è insita nella comunità, che integra la comunità di Altavilla con la comunità di Palermo. È un giorno in cui possiamo, grazie al lavoro di tanti, e lasciatemi, permettetemi di ringraziare sicuramente la confraternita Maria Santissima Lauretana e BC Sicilia per il loro studio approfondito che ancora una volta ci dà un'occasione per entrare sempre più nella storia, nella nostra storia. Abbiamo festeggiato da poco 400 anni e dobbiamo imparare a crescere nella consapevolezza, nella consapevolezza storica di quello che rappresenta il nostro santuario, che adesso è basilica, di quello che rappresenta la Madonna della Milica per tutto il territorio. Considerando il territorio non più soltanto come il paese di Altavilla Milica, bensì un territorio più ampio. Un momento di questo pomeriggio per sancire quell'unione, quell'unione anche devozionale che si manifesta attraverso il bello, attraverso l'arte. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento ci furono due cardinali a Palermo, il cardinale Celesia e il cardinale Lualdi, che incentivarono l'uso delle edicole votive a Palermo. In particolar modo se ne fecero 23 che appartenevano, erano dedicate alla Madonna della Milica. Oggi purtroppo la maggior parte non esistono più o si trovano in pessime condizioni e manca la reliquia o qualcosa del genere. importanti sono quelli che si trovano a Piazzetta Ballarò, angolo con via Porta di Castro, dove c'è un epigrafe che dice che è stata impiantata nel 1889. È una cosa molto importante e specifica che, di rimpetto allora, c'era un tal signor Di Blasi che aveva una panelleria, oggi le chiamiamo friggitorie, allora erano panellerie e queste cose che la fece restaurare. La devozione dei palermitani alla Madonna della Milica si fa risalire al 1636, quando i pirati attaccano Altavilla, fanno oltraggio al quadro della Madonna. Era il 14 luglio, quando c'erano i festeggiamenti di Santa Rosalia. Il simulacro di Santa Rosalia viene fatto rientrare e la gendarmeria di Palermo viene in aiuto della piccola comunità di Altavilla. Così come Santa Rosalia ha salvato Palermo dalla peste, la Madonna della Milica ha salvato la città di Palermo dall'attacco dei pirati. Oltre al cibo, percorso di integrazione attraverso le tradizioni culinarie popolari. Sei migranti della cooperativa Badia Grande di Marsala, a lezione di street food siciliano con gli alunni dell'Istituto Alberghiero Ignazio Vincenzo Florio di Erice. Lezioni di street food siciliano all'Alberghiero di Erice per sei migranti aspiranti ai lavoratori della ristorazione. L'iniziativa promossa dalla dirigenza della cooperativa sociale Badia Grande ha lo scopo di favorire l'occupazione e l'integrazione attraverso la diffusione delle tradizioni popolari è stata sostenuta dalla dirigente scolastico Pina Mandina dell'Istituto Alberghiero Ignazio Vincenzo Florio di Erice. Nel corso del secondo incontro del ciclo denominato Oltre al Cibo, sei immigrati di età compresa fra i 18 e i 23 anni provenienti da Tunisia, Bangladesh, Burkina Faso, Benin, Gambia e Somalia che già svolgono lavori saltuari nel campo della ristorazione hanno affiancato la brigata di cucina dell'Istituto, una rappresentativa della Quarta D ed hanno avuto l'opportunità di immergersi nelle tradizioni culinarie siciliane. Il progetto della cooperativa Baliagrande mira a favorire l'integrazione culturale e sociale tra la popolazione autoctona e i migranti, apre anche un dialogo tra cultura attraverso il linguaggio universale del cibo e tende a far trovare nuovi sbocchi occupazionali attraverso la formazione. Sotto la guida del professore di cucina Nino Masanelli e del suo assistente Mario Bianco, gli studenti migranti hanno superato le barriere linguistiche e culturali mettendo le mani in pasta per creare deliziosi piatti di street food siciliano, dallo sfincione padermitano alle arancine, dai calzoni di verdure e formaggio alle pizzette fritte. Un confronto, un arricchimento sia per gli studenti sia per gli immigrati che condividono la passione nell'arte culinaria, ma soprattutto un altro piccolo grande passo verso l'inclusione. L'alberghiero di Erice sotto la direzione di Pina Mandina ha dimostrato un impegno concreto verso l'integrazione, offrendo ai migranti non solo un'esperienza formativa nel campo della ristorazione, ma anche un'opportunità di orientamento scolastico. Questa esperienza culinaria, oltre alla semplice preparazione dei piatti, è un ponte che collega le persone abbattendo frontiere e pregiudizi. A Sant'Elia, frazione Santa Flavia, è stata inaugurata la nuova scalinata ripristinata grazie all'impegno di associazioni e cittadini. Il progetto è stato permesso grazie anche alle donazioni da parte di privati. Dalle piccole cose si vedono i grandi passi e i grandi cambiamenti. Oggi con la inaugurazione di questa scalinata così decorata dall'associazione Nuovo Sentiero, volevo ringraziare infatti Laura Ambra per questo lavoro, la signora Castronovo che sono stati i promotrici a portare avanti questo progetto. Assieme ai ragazzi dell'associazione hanno fatto sì di ridare vita e riqualificare una scalinata che era quasi abbandonata nel nostro territorio e quindi mi fa immensamente piacere proprio vedere la fattività da parte dell'associazione ma non solo anche dei cittadini comuni che ci mettono impegno nel senso civico e nell'abbellire il nostro territorio. Per quanto riguarda il ruolo delle associazioni, che non è soltanto la Nuovo Sentiero ma c'è l'associazione Williams, c'è l'associazione La Vallotta, è stato quello di mettere insieme quest'idea progettuale grazie al CESVOP, Centro dei Servizi del Voluntariato di Palermo e con il sostegno anche del Comune abbiamo realizzato questa bellissima opera. Mi sento parte attiva e diciamo famiglia della Nuovo Sentiero e dell'associazione Sindrome di Williams. Sono sempre accanto ai nostri ragazzi, nel donare mi piace dire che si riceve molto di più quindi non è un valore numerico però secondo me è un valore inestimabile dove la consonante attiva è proprio l'amore. Rimettere in colore perché nel mio campo diciamo se non ci sono i colori non vivo e allora abbiamo scelto questa scalinata che altrimenti sarebbe stata per come l'avreste vista 4-5 mesi fa una scalinata anonima, una scalinata piena di buche, di disagi totali, di ruggine, di sporcizia. Studenti e bambini protagonisti al Centro Universitario Sportivo di Palermo da giugno ad agosto o per i campus multisportivi che insieme ai tornei universitari e alle visite scolastiche si pongono come obiettivo quello di diffondere la pratica sportiva come crescita ed apprendimento durante la crescita dei più giovani. Ce ne parla il presidente del CUS Palermo, Giovanni Randisi. Il 10 giugno inizierà il nostro campus multisport dove tutti i bambini, i ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alle nostre attività sportive, verranno organizzati delle attività didattiche e ricreative dove i ragazzi potranno vivere dalla mattina fino al primo pomeriggio dei momenti di sport in un ambiente sano, in un ambiente con tante attività sportive e nello stesso tempo in un ambiente ricco di giovani. Lo sport, secondo la vostra filosofia, si inserisce appieno nell'insegnamento didattico, anche accademico, dei ragazzi, dell'università. Fate anche dei tornei, ci dica qualcosa al riguardo? Sì, proprio oggi inizieranno i tornei universitari, Unipasport è una manifestazione che facciamo ogni anno dove partecipano gli studenti universitari impegnati in diverse discipline che vedranno vincere diverse squadre e poi vediamo quale facoltà sarà premiata a fine torneo dal magnifico rettore. Tante le discipline, anche a livello agonistico, tanti anche nomi famosi che sono stati curati da voi. Sì, noi facciamo a livello agonistico tanti sport, dalla palla a mano, ovviamente all'atletica maschile e femminile, qui vorrei ricordare che negli anni abbiamo avuto tanti atleti a livello internazionale, ad Antibo, a Simona Lamantia. Quest'anno ci saranno i gemelli zooglami che saranno impegnati in diverse manifestazioni e speriamo facciano un buon risultato alle Olimpiadi di Parigi, ma anche palla a mano, calcio, calcio a 5, palla a canestro, nuoto, canottaggio e tanti altri sport. Sappiamo anche di una collaborazione con le scuole. Sì, da quest'anno abbiamo chiuso dei protocolli con le scuole elementari della città ed ospitiamo quotidianamente i giovani, facciamo vedere gli impianti, facciamo provare diversi sport e nello stesso tempo li invogliamo a un'attività sportiva costante. Tappa del progetto pilota, uno nessuno, 100 giga, Favara. Ospiti e testimoni dell'impegno contro la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, i cantanti Leo Gasman e Shade. La musica può essere uno strumento importante per trasmettere dei valori sani, positivi. Sono convinto che la musica possa ancora fare la differenza e sicuramente può unire tante persone con ideali e valori diversi, sicuramente è importante studiarla e può aiutare comunque a sviluppare una passione, un'arte e quindi fa sempre bene al cuore. La musica è innanzitutto un momento di confronto con se stessi, quindi inizieranno a combattere i loro demoni, scrivendo tutto quello che hanno dentro su un foglio. Automaticamente troveranno più consapevolezza e di conseguenza, perlomeno parlo per esperienza mia, quando poi mi sono reso conto che con il rap, con il freestyle, riuscivo a fare qualcosa di buono, di positivo, ho acquisito anche un po' più di autostima, di conseguenza neutralizzavo un po' gli insulti dei bulli, gli sfottò. Si è svolta a Sant'Alfio la sedicesima edizione del premio Sant'Alfio Fonte di Pace. Vediamo il servizio. In occasione del riconoscimento Monumento Messaggero della Pace nel Mondo, conferito al millenario Castagno dei Cento Cavalli di Sant'Alfio, 16 anni orsono, dal club per l'UNESCO 10 Reale, in collaborazione col Comune di Sant'Alfio, è stato istituito il premio Sant'Alfio Fonte di Pace, con l'intento di offrire un riconoscimento a personalità, associazioni o enti, che si sono distinti in attività di promozione e di testimonianza dei valori relativi alla pace, attraverso la cooperazione intellettuale, educazione, scienza, cultura, scienze sociali, comunicazione. Il club per l'UNESCO 10 Reale e il Comune di Sant'Alfio, in seguito agli ultimi eventi bellici, rinnovano la celebrazione del messaggio universale della promozione della cultura della pace, con un'attenzione speciale nei riguardi delle giovani generazioni e propongono una riflessione sulla messa in pratica dei principi universali di una cultura della pace, mediante il conferimento del premio, nell'ottica dell'UNESCO, verso personalità che hanno operato nel rispetto della dignità umana, della democrazia e quindi della pace. Sant'Alfio è fonte di pace e non in maniera semplicemente simbolica ma significativa, tant'è vero che la nostra azione è quella di cercare di mandare un messaggio che possa tornare utile ai governatori del mondo, per cercare di evitare quello che sta succedendo in questo momento. 33esima edizione del Giro di Sicilia, la manifestazione organizzata dal Veteran Car Club Panormus e da CTF Viaggi, che rievoca la corsa voluta dai Florio del 1912. Dopo alcune prove di irregolarità, i vincitori in assoluto di quest'anno sono Salvatore Gagliotto e la moglie Pinuccia Paviera, con una Fiat 11103 del 1954. Dopo un anno di duro lavoro, la 33esima rievocazione storica del Giro di Sicilia è stata completata qui da dove è partita, Piazza Massimo, teatro bellissimo, la città ci ha accolto calorosamente alla partenza, uno spettacolo, devo dire. Siamo soddisfatti, soddisfatti dai numeri, parlo di numeri, 200 equipaggi provenienti da tre continenti, tutta Europa completa, macchine dal 1912 in poi, molte anteguerre che hanno percorso ai tempi già il vero Giro di Sicilia, quindi che dire, gli attrazzamenti sono stati spettacolari, tutta la costa tirrenica, l'Etna, l'Ottigia, l'Agrigento, la Valle dei Tempi, i Serinunte, abbiamo avuto l'esperienza di entrare con le auto storiche dentro questo sito bellissima, abbiamo avuto gruppi di giapponesi, americani, l'Europa è stata quasi tutta completa, coperta, qui vorrei accennare i 27 viaggi al Bergio, i 27 viaggi al Bergio, ma potevano già loro solo fare questo evento. E passiamo al calcio Serie B dopo il trionfo di venerdì con la Samp, atteso appuntamento per il Palermo questa sera a Renzo Barbera. Contro il Venezia, gara d'andata delle semifinali promozione, sarà ancora una volta tutto esaurito. E la seconda notte della verità ed anche quella del pienone al Renzo Barbera, anche la vigilia della sfida di andata delle semifinali playoff è stata segnata dalla corsa al biglietto che lascia pochi dubbi sulla cornice di pubblico di questa sera. Per la gara contro il Venezia in Viale del Fantasy supereranno nuovamente le 30.000 presenze, il cuore della tifoseria Rosanero continua a battere forte per il sogno della Serie A. Sensazioni positive anche quelle avvertite dal tecnico dei Rosanero, Michele Mignani, nella conferenza stampa pre-partita. È stato bellissimo contro la Samp entrare in campo per il riscaldamento e vedere lo stadio già quasi pieno ad un'ora dall'inizio, ha confessato l'allenatore. Ci si aspetta nuovamente Brunori in posizione più defilata, dunque formazione iniziale vicino a quello di venerdì contro la Sampdoria. Soleri come terminale offensivo e Insigne o Di Francesco a completare il trio d'attacco davanti a De Plansch, Graves, Lucioni e Nedel Cearo, con Lund, Ranocchia, Segre e Diachite nella zona centrale del campo. Le parole del tecnico alla vigilia della sfida. La partita con Venezia mi era capitato di vederla in passato, non sono andato a rivederla in questi due giorni o recentemente. Credo che sia un lavoro di squadra come è stato con la Sampdoria a limitare eventualmente giocatori importanti alla squadra avversaria, ma il Venezia non è solo poi Giampalo, è tanto altro, perché è arrivata ad un soffio della promozione diretta, quindi nell'arco di 38 partite significa che ha dimostrato valore, che ha fatto punti e non solamente grazie ad un giocatore, un alleatore che sta facendo molto bene, che ha preso una squadra l'anno scorso in una determinata situazione, l'ha portata quest'anno a fare un campionato di vertice e ha rischiato di andare direttamente in Serie A. Quindi sarà una partita tra il Palermo e il Venezia, dove sicuramente in campo ogni squadra ha le sue individualità, ma dove si ragiona a livello collettivo. Il Palermo Futsal Club di Mister Gentile batte con un secco 9-2 l'Orsa Promosport e approda la finale regionale di Coppa Trinacria, dove affronterà l'atletico Campobello. Il Palermo Futsal Club approda la finale regionale di Coppa Trinacria. I rosa-nero guidati da Mister Gentile vincono con un netto 9-2 la semifinale di ritorno contro la Orsa Promosport di Barcellona Pozzo di Gotto, con le reti di Sujon, Tinnici, Leto, Lafiura, Danilo Alario e le doppiette di Gennaro e Billiteri. Le reti degli ospiti portano la firma di Blasco e Presti. Una buona partenza dell'Orsa, con anche un palo colpito a perditizi battuto, viene annullata dopo sei minuti dalla rete di Sujon, matchwinner della gara d'andata. L'Orsa prova a ribattere gli attacchi dei rosa-nero con un tiro pericoloso di Salamita, ma è ancora il Palermo ad andare in rete con il gol di Gennaro su assist di Catania al ventesimo minuto. Il portiere ospite, Chilleri, sale sugli scudi fermando Vivarelli il lanciato a rete. Lo stesso portiere si spinge in avanti lasciando sguardita la porta ed approfittarne Kinnnici. Kinnnici, dopo aver messo la firma sul gol, si trasforma in uomo assist per Gennaro che mette in rete il quarto gol rosa-nero. Nel secondo tempo, anche Leto va a segno dopo aver colpito il palo con un tap-in al trentacinquesimo in contrasto con Arcoraci. Al quarantasettesimo, Capitano Lafiura, con grande altruismo e davvero capitano, rinuncia alla conclusione servendo Billiteri in posizione sicuramente migliore per concludere e siglare la sesta rete rosa-nero. Lo stesso Billiteri firma la propria doppietta personale approfittando di un'altra incursione offensiva del portiere Chilleri e segnando agevolmente la settima rete per il Palermo Futsal Club. L'Orsa riesce a segnare il primo gol a dieci minuti dal termine con la rete di Blasco, seguito dalla rete del 7-2 di Presti al 54esimo, ma il Palermo non è mai domo e dopo svariati tentativi arriva anche il gol di Danilo Alario. A chiudere definitivamente il match ci pensa il capitano Vito Lafiura sul passaggio di Catania all'ultimo minuto. Sabato 25 maggio, la finale vedrà impegnati il rosa-nero contro l'atletico Campobello. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News. Grazie a tutti.